Parte adesso la seconda edizione del Festival Inneschi Noi Siamo Poesia e quest'anno è dedicata a Pier Giorgio Ballerani. Artista di Vimodrone che da sempre, da quando abbiamo aperto l'Everest in via Sant'Anna, è stata una delle prime persone che hanno suonato il campanello e ci ha chiesto cosa volevamo fare insieme. L'abbiamo sempre sentito vicino come una persona che voleva creare con noi e per noi è stata una persona veramente importante. Il cielo è di tutti gli occhi ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera. L'idea 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.